Sei molto elegante. Cosa succede? Vado a una cerimonia. Quale cerimonia? La cerimonia del lavaggio del piedi. La ragazza si mette seduta a sinistra e il ragazzo si mette seduto a destra. Allora, la ragazza si siede a sinistra mentre il ragazzo si siede a destra. Perché non è il contrario? Ha per caso scattato delle foto qui al villaggio. Le hanno chiesto di una foto? Questa foto sta diventando un grande problema. Ci sta paralizzando tutti. Signor Panay, si ricordi che qui la gente va in cerca di guari. Dio ce ne scampi, scorrerà del sangue. Per l'amor di Dio ci aiuti. Un regista al quale è stato vietato di lasciare il paese seduto proprio ai margini della frontiera. avrebbero potuto riconoscerla e arrestarla. Dove è esattamente il confine? Ci si trova sopra. Mi dica, è andato al confine ieri sera. Anche la gente del posto ha paura di andare da quelle parti. Il sentiero non è sicuro. Ci sono gli orsi. Sta diventando pericoloso. Scorrerà del sangue. Perché non mi credete? Si sente in trappola. Senza futuro. Senza libertà e senza lavoro. Per favore parlategli. E gli orsi? Solo storie inventate. Per spaventarci. Non ci sono gli orsi. Non faccia fotografie da noi, mi dia retta. Va bene.